Buonasera a tutti, grazie di aver resistito fino alle 5 di questa domenica appunto perché sono le 5 di domenica vi prometto di non fare una presentazione troppo pesante anche perché a differenza di quello che potete aspettarvi questi sono argomenti molto pesanti soprattutto se siete solamente degli astrofili o se avete studiato ingegneria astrofisica io non sono un ingegnere, è capitato una volta che avevano sbagliato a segnarmi il nome sul cartellino mettendo ingegnere Vassalli e preciso sempre ogni conferenza che faccio che non so dare le risposte tecniche delle missioni spaziali che per esempio sono state descritte in questo libro io ho una formazione più umanistica e mi occupo prevalentemente degli argomenti politici e storici dell'esplorazione dello spazio chiaramente questi argomenti sono più localizzati nel periodo storico passato della guerra fredda quindi si può dire che io sono più centrato negli argomenti della corsa alla luna tra Stati Uniti e Unione Sovietica piuttosto che alla situazione odierna della politica internazionale nella corsa allo spazio questo perché oggi c'è bene o male, per fortuna, un periodo di collaborazione tra le nazioni per l'esplorazione dello spazio e c'è un certo distacco col passato dove invece l'esplorazione dello spazio era basata esclusivamente sulla competizione politica qui potete vedere la copertina del libro già il titolo è qualcosa di abbastanza complicato magari non complicato per un astrofilo ma presentarlo alle persone comuni che poco hanno a che fare con l'esplorazione dello spazio o spiegare cosa vuol dire essere non politica mi ha dato diversi problemi soprattutto perché c'è una K vi spiego perché c'è una K nella politica e non in C l'immagine che vedete è stata realizzata da una ragazza che studia belle arti che rappresenta l'una di Evit, che è l'una 9, la sonda sovietica che nel 1966 ha raggiunto la luna per la prima volta il primo oggetto che si è posato sulla luna con un impatto morbido poi vedremo più nel dettaglio come questo si è realizzato poi ogni presentazione scherzo dicendo che se siete interessati all'originale questo dipinto possiamo fare una base d'asta da 12.000 euro e chi vuole comprarlo è disponibile perché è quello che effettivamente avevo proposto alla ragazza che mi ha realizzato il posto per il libro e il dipinto e ho detto poi te lo piazzo sul mercato e ti faccio diventare famoso comunque passiamo a cose un po' più serie e andiamo alla prima slide di questa presentazione che non funziona io non sono un mago della tecnologia come potete vedere e questo vi spiega anche perché questo non è un libro tecnico di ingegneria spaziale è un libro più interessato alle teorie di propaganda del paese che per i primi anni alla corsa allo spazio è stato in testa alla competizione con gli Stati Uniti questa è la slide più impegnativa se volete se sopravvivete a questa siete arrivate garantiti alla fine della presentazione e vi spiega bene o male quello che è il titolo di questo libro Selenopolitica infatti è il titolo che io ho voluto dare per spiegare tutte le decisioni e le strategie che all'epoca l'Unione Sovietica aveva adottato per arrivare prima degli americani sulla Luna l'esito penso che bene o male lo sapete tutti i sovietici non sono mai riusciti a sbarcare sulla Luna a differenza degli americani però c'è da dire che molte sonde lanciate alla fine degli anni 50 sulla Luna hanno raggiunto numerosi traguardi e la quasi totalità di queste sonde nella prima parte della corsa allo spazio sono sui lini quindi Selene da greco come penso sappiate tutti vuol dire Luna politica invece vuol dire politica in russo ecco qua il famoso mistero per cui c'è una K non è perché voglio dare un titolo da come si dice bimbo mica come i giovani d'oggi che scrivono messaggi con le K dappertutto il motivo è che politica è traslitterato dal russo quindi ci vuole una K e Selenopolitica richiama un altro termine che è quello di geopolitica che è lo studio degli interessi che hanno gli stati in relazione al territorio che si abbina anche alla selenologia che è lo studio appunto dell'ambiente lunare quindi se siete tutti ancora vivi dopo questo sforzo mentale per capire il titolo che tra l'altro è stato abbinato a un sottotitolo che doveva essere più terra terra che appunto riguarda l'ascesa e il declino del programma lunare sovietico quindi dal libro come avete capito si parla del programma lunare sovietico programma lunare non programma spaziale quindi tutte le altre fasi della corsa allo spazio satelliti, uomini in orbita, stazioni spaziali non sono comprese nell'argomento del libro si parla solo di programma lunare questo non vuol dire che c'è poca carne al fuoco in realtà la carne al fuoco è tantissima la versione originale del libro era un mattone di tipo 700 pagine io poi ho dovuto tagliare per due motivi rendere più leggibile il libro alla gente comune e poi perché avrei avuto costi di stampa elevatissimi e se ne è andato in banca alla volta sicuramente quindi adesso vediamo le fasi principali che l'Unione Sovietica ha implementato per realizzare le sue missioni lunari io oggi ho deciso di concentrarmi prevalentemente sul secondo capitolo di questo libro che riguarda tutte le sonde sovietiche lanciate sulla Luna quindi magari faremo qualche accenno anche alle missioni spedizioni umane tra l'altro mai partite però per stare dentro nei tempi parleremo esclusivamente della prima fase che è quella dell'esplorazione automatica qui potete già vedere un manifesto di propaganda tenete conto che siamo in un contesto in cui l'informazione sui quotidiani, sulle riviste è molto legata alla propaganda sovietica dell'epoca il contesto storico ci spiega che all'epoca i sovietici volevano dimostrare di avere un sistema politico-economico superiore a quello degli avversari americani e infatti è così che è nata la corsa allo spazio e appunto questo manifesto che dice che le forze creative del socialismo sono immense dimostra, appunto con un esempio di una sonda in parte quanto all'epoca fosse importante questa tematica per il governo sovietico e questa è la prima fase dell'esplorazione della Luna in cui l'Unione Sovietica ha bene o male la maggior parte dei primati la prima sonda sul suolo lunare con un impatto violento è stata sovietica la prima sonda a fotografare la faccia nascosta della Luna è stata sovietica e così via gli americani sono sempre arrivati per secondi in queste tappe e poi alla fine della presentazione vedremo i perché di questo apparente vantaggio la seconda fase è quella dove l'Unione Sovietica incomincia ad arretrare si parla infatti del volo circumlunare che è il volo che prevede appunto un viaggio verso la Luna senza sbarco con un cosmonauta in una capsula dicevo, l'Unione Sovietica non è mai riuscita a realizzare questa tappa per una serie di motivi saranno invece gli americani nella vigilia natale del 68 che con la missione Apollo 8 faranno un primo volo circumlunare con degli astronauti a bordo se qualcuno magari ha già letto la quarta copertina del libro che ho trovato su internet tutto l'argomento avrà notato che io ho usato una frase molto suggestiva che gli americani furono appunto i primi che riusciranno a arrivare sulla Luna mentre i sovietici attorno alla Luna manderanno solo qualche tartaruga ovviamente non è una frase che ho messo lì per attirare l'attenzione è proprio un evento che si è realizzato concretamente i sovietici avevano mandato una capsula come questa che sarebbe stata la capsula successiva che avrebbe portato l'uomo attorno alla Luna e per testare la fattibilità del volo umano attorno alla Luna aveva inglobato in questa capsula una unità biologica che prendeva in considerazione lo studio degli effetti dell'ambiente lunare su alcuni organismi tra questi organismi c'erano delle tartarughe si è discusso a lungo su perché proprio le tartarughe e in realtà io ho trovato diverse spiegazioni molto banali, semplici dicevano che le tartarughe erano facili da collocare nella capsula non si muovevano ovviamente e quindi una missione molto strategica la fase successiva è la più importante adesso non spaventatevi dall'immagine questo ovviamente è un fake, è un falso io metto le mani avanti dicendo che per non ricevere accuse di complottismo riconosco che gli americani sono stati i primi a arrivare sulla Luna questa immagine è un falso però è stata l'immagine più suggestiva che ho trovato per spiegare questa fase questo che vedete è quello che gli sovietici puntavano di realizzare nella corsa alla Luna quindi portare un cosmonauta sul suolo selenico piantare la bandiera dell'Unione Sovietica dimostrare al mondo che Mosca aveva vinto nella corsa alla Luna ovviamente lo sviluppo dei fatti fu diverso che gli americani nel 69 a piantare la loro bandiera la fase successiva è quella che non si è mai realizzata praticamente è la fase di colonizzazione lunare quindi le installazioni base lunari sulla Luna per lo sfruttamento delle risorse dal punto di vista economico e così via è vero che non siamo mai arrivati a questa fase soprattutto dal lato sovietico però gli archivi dopo l'apertura appunto della divulgazione di informazioni segrete del programma lunare sovietico dimostrano che negli anni 60 e 70 ci sono stati diversi piani per realizzare questo tipo di colonia sul suolo selenico e queste sono le quattro fasi principali adesso come ho programmato vediamo la fase delle... anzi no, prima c'è la prefazione del libro, il prologo questa è una vicenda che ho inserito nel libro perché mi ha compito molto e molto suggestiva anche per spiegare questi argomenti quindi dobbiamo fare un salto indietro nel tempo ma avanti per quella che è la corsa allo spazio siamo nel 26 agosto dell'81 la guerra fredda non è ancora finita però la corsa allo spazio, sì gli astronauti americani sono svercati più volte sulla Luna e qua succede qualcosa di molto curioso non siamo né in Unione Sovietica né negli Stati Uniti ma in Australia cosa succede in questa giornata? nella parte nord-occidentale dell'Australia alcune città, alcuni abitanti di questa città si accorgono che nel cielo c'è un vagliore luminoso molto ambiguo, non si capisce che cos'è col passare dalle ore ci si accorge che è un satellite sovietico che sta precipitando sulla terra all'epoca succedeva che satelliti sovietici ormai obsoleti cadevano sulla terra, ovviamente non intatti e si disintegravano in orbita e questo aveva preoccupato in particolare gli abitanti della terra perché in diversi casi, per esempio in Canada qualche anno prima alcuni satelliti sovietici con un reattore nucleare erano precipitati sulla terra e nel caso appunto del Canada le scorie nucleari avevano contaminato alcuni territori del paese e se vi andate a cercare tutta la questione internazionale si parla molto di questi satelliti che appunto avevano contaminato il territorio di altri paesi e un paese giustamente chiedeva un risarcimento quindi cosa succede quando gli australiani si vedono un satellite sovietico che sta per precipitare? iniziano ad allarmarsi la prima cosa che viene fatta e la più scontata è telefonare a chi di dovere quindi ai dirigenti sovietici per chiedere l'assicurazione quello che avviene è un caso molto importante bisogna aprire una parentesi fino a quel momento in realtà fino agli anni 90 l'Unione Sovietica aveva in corso un programma per portare un cosmonauta sulla Luna ma l'aveva sempre tenuto nascosto perché era tipico della propaganda sovietica non rivelare gli intenti del programma spaziale nel programma spaziale sovietico solamente le missioni che avevano esito positivo venivano annunciate al mondo intero quindi Primo Sputnik il volo di Yuri Gagarin e così via furono prontamente annunciate dalla propaganda sovietica molti satelliti come dopo ne vedremo alcuni alcuni satelliti che per esempio quelli annunciati verso la Luna che non riuscirono a realizzare il loro obiettivo fino agli anni 90 furono completamente tenuti all'oscuro dell'opinione pubblica e qua dicevo arriviamo al punto l'Unione Sovietica commette un errore clamoroso risponde agli australiani rassicurandogli dicendo che gli satelliti che sta per precipitare disintegrandosi sulla Terra non ha un reattore nucleare per un motivo molto particolare perché è un modulo sperimentale che avevano lanciato dieci anni prima per testare in orbita terrestre quello che poi sarebbe stato lo sbarco di un cosmonauta sulla Luna qui vedete la prefazione del libro vi ho già detto tutto e appunto la presa centrale è questa quel modulo era in effetti stato lanciato dieci anni prima nel 71 sotto il nome di copertura Cosmos 434 con il compito di simulare in orbita terrestre operazioni di sbarco sulla superficie selenica e per quasi vent'anni fino a quel momento nessuno sapeva nulla a livello di opinione pubblica dei tentativi sovietici di sbarcare sulla Luna si sapeva delle sonde che erano state mandate ma nessuno aveva le prove ufficiali che i sovietici erano in corsa per portare un proprio uomo sulla Luna questo a differenza dei servizi segreti americani che invece avevano già captato qualcosa quindi l'81 è una data importantissima perché viene svelato indirettamente quelli che erano stati gli intenti sovietici ok ora torniamo indietro nel tempo di una decina poco più d'anni e vediamo quella che è la prima fase dell'esplorazione lunare sovietica allora abbiamo già detto qualcosa di molto importante io nel libro analizzo due programmi principali sovietici che sono stati implementati per lo studio dell'ambiente selenico il primo probabilmente più conosciuto e più corposo è quello delle sonde Luna che dal 58 al 76 bene o male svolgono i principali mettono in atto i principali primati dell'esplorazione automatica sovietica poi ci sono anche le sonde di modello 3MV che compiono altre missioni ma danno meno risalto alla corsa allo spazio gli obiettivi dell'esplorazione automatica sono a loro volta diversi possiamo studiarli a seconda proprio del tipo di missione che viene realizzata quindi c'è il solo volo lunare ecco tenete conto che fino al 59 la Luna era osservata tramite il telescopio o altri strumenti ma mai una sonda era andata a studiare da vicino quello che era l'ambiente lunare quindi le fasi principali sono queste il solo volo lunare l'impatto lunare l'impatto lunare è il lancio di una sonda direttamente sulla superficie selenica ma in modo violento quindi senza recuperare la strumentazione non a caso queste prime sonde vengono chiamate sonde kamikaze perché venivano lanciate con un razzo direttamente sulla Luna e l'obiettivo qua è molto curioso la corsa alla Luna io la vedo molto ricca di aspetti ironici perché gli sovietici erano dei erano dei geni nel creare l'interesse nelle proprie missioni però dal punto di vista scientifico e tecnologico le loro missioni erano praticamente a livello zero quasi rispetto a quelle che poi saranno le prime missioni americane e appunto le sonde kamikaze che venivano lanciate sulla Luna a velocità elevatissima hanno una spiegazione venivano lanciate senza possibilità di allunare appunto in modo morbido come si dice perché i sovietici volevano essere i primi a raggiungere questa tappa poi vediamo nel dettaglio quali sono state le prime sonde a svolgere questo compito c'è poi la fotografia del lato nascosto della Luna fino a quel momento l'umanità intera non sapeva cosa c'era nel lato scuro della Luna che non è mai mostrato al nostro pianeta si erano fatte numerose ipotesi e quando poi le prime le prime sonde sovietiche fotografavano questa parte l'umanità scoprirà cosa c'è dietro la Luna in realtà non ci furono grandi sorprese molti avevano ipotizzato i più diciamo complottisti che c'erano l'uomo era già arrivato dietro la Luna che addirittura c'erano degli alieni nascosti le prime sonde arrivate dietro appunto alla parte nascosta dimostrarono quello che è l'ambiente selenico del lato nascosto ci sono poi le missioni che prevedono l'inserimento di satelliti intorno alla Luna anche questo un primato sovietico l'allunaggio morbido che è quello rappresentato dalla copertina il recupero di campioni di suolo lunare che è stato una una tematica molto dibattuta poi tutti questi passaggi li vediamo con esempi pratici e infine l'allunaggio dei primi veicoli lunari che si spostavano su un suolo selenico allora l'unione sovietica era partita in tutta in tutta fretta a realizzare queste missioni l'obiettivo era quello di arrivare prima degli americani in tutte le tappe che abbiamo visto prima si può dire che quasi in tutte queste tappe anzi si con certezza tutte queste tappe sono state raggiunte per prima dall'unione sovietica vengono infatti realizzate le prime sonde qua stiamo guardando bene o male tutto il programma luna quindi da luna 1 che è stata la prima sonda a luna 24 che nel 76 è stata l'ultima sono state divise in tre generazioni a seconda del grado di grado specifico della tecnologia la prima generazione erano sonde bene o male semplicissime le prime somigliavano un po' allo sputnik avevano qualcosa in più seconda generazione e terza sempre più sviluppate per un motivo banale che le missioni sono sempre più sofisticate quindi non c'è più il solvolo o l'impatto lunare ma abbiamo l'allunaggio morbido sette lunare quindi missioni sempre più articolate qui oggi se dobbiamo dire quali sono gli oggetti sovietici sulla luna delle missioni lunari abbiamo questa immagine che ci dimostra che effettivamente l'unione sovietica aveva mandato delle sonde sulla luna qui abbiamo alcune che sono state quelle a impatto violento come luna 2 altre come luna 9 che sono state quelle con l'allunaggio morbido altre sono in realtà delle ripetizioni delle stesse missioni e qui come dicevo adesso vediamo i casi pratici bisogna dire una cosa importante le sonde programma luna come avete visto sono in tutto 24 però le sonde che all'epoca furono effettivamente andate sulla luna o che non riuscirono a raggiungere la luna furono molte di più l'unione sovietica e il governo aveva deciso di non rivelare questi fallimenti appunto per non macchiare la propria reputazione di prima nazione a gestire le missioni dell'esplorazione spaziale e andiamo adesso luna 1 luna 1 qua bisogna dire un'altra cosa molto interessante che oggi questa sonda è chiamata luna 1 ma all'epoca aveva ricevuto un altro nome primo razzo cosmico il motivo di questo nome è molto interessante il governo sovietico non voleva che durante le fasi di implementazione della missione se la missione non fosse andata a buon fine qualcuno l'avesse scoperto dai documenti non doveva emergere che la sonda era diretta verso la luna quindi non si poteva chiamare luna 1 e molto assolutamente l'hanno chiamata primo razzo cosmo quindi un termine molto banale che poteva un po' deviare dai sospetti che all'epoca erano molti fu soprannominata miesta che in russo significa sogno e notate in particolare l'anno di realizzazione della missione siamo nel 59 quindi due anni dopo il lancio del primo satellite dopo lo Sputnik e siamo proprio agli inizi di questa esplorazione la sonda in particolare passerà nei dintorni della luna e sarà la prima sonda della storia a lasciare appunto la gravità terrestre era però progettata per impattare sulla luna se leggete era una sonda kamikaze vi potete capire già che cosa era successo all'epoca i sovietici pensavano di riuscire a mandarla a schiantarsi sulla luna siccome era una delle prime missioni che si tentavano il fallimento della missione aveva portata a passare solo nei dintorni e cosa fece Mosca all'epoca sui titoli dei giornali diceva l'unione sovietica ha lanciato per la prima volta una sonda verso la luna e un clamoroso successo ovviamente non disse che il progetto era l'impatto lunare perché non voleva dimostrare il fallimento della missione questa bene o male è la logica che all'epoca era adottata da Mosca per presentare le proprie missioni quasi fino alla durata appunto addirittura dell'esistenza dell'unione sovietica stessa un'altra cosa interessante è che la prima sonda cioè luna 1 che raggiunge i dintorni della luna avviene nel 59 nel 58 in realtà erano state lanciate diverse sonde come questa ma come potete intuire non avevano raggiunto l'obiettivo e quindi fino alla fine della guerra fredda furono praticamente cancellate dalla stampa dagli organi di informazione e così via poi quando sono stati aperti gli archivi e gli studiosi hanno iniziato a studiare più approfonditamente il programma spaziale sovietico sono emerse fuori tutte le missioni fallimentari alla fine di queste sonde vedremo una tabella dove io ho messo una dietro l'altra le sonde per far capire quali sono state le sonde realmente divulgate dagli organi di stampa e quali quelle tenute sotto seletto segreto abbiamo poi luna 2 che sarà il secondo razzo cosmico verrà chiamata luna 2 successivamente e è il primo oggetto che si schianta su un corpo celeste questo è uno dei più interessanti perché ha degli effetti propagandistici molto molto vivaci innanzitutto adesso non entro troppo nel merito del diritto internazionale qua c'è una cosa molto curiosa soprattutto per i giuristi all'epoca si pensava che l'unione sovietica lanciando il primo oggetto sulla superficie lunare volesse anche rivendicare la sovranità sul territorio in parole povere molti pensavano che l'unione sovietica mandando una sonda sulla luna dicesse la luna adesso è nostra perché molti principi giuridici dicono che una terra ancora non conquistata è di sovranità del primo stato che ci arriva in realtà questa polemica non fu smentita subito nel libro trovate nei dettagli questa questione adesso non vi annoio con la questione giuridica comunque questo vi fa capire come all'epoca queste missioni tenevano svegli i governi nel nel cappare i pericoli che le missioni potevano avere nei confronti anche della sicurezza nazionale la cosa più interessante di questa sonda è questo qui questi sono i galliardetti sovietici che le prime sonde trasportavano di scientifico non hanno praticamente nulla erano delle piccole sfere composte da da queste piccole strutture di metallo dove erano appunto segnati il simbolo dell'Unione Sovietica SSSR che è la sigla Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e avevano un obiettivo particolare raggiungendo la superficie della Luna la sonda kamikaze impattava e disperdeva sul territorio tutte queste piccole placche per marchiare appunto la missione che doveva avere appunto firma sovietica questo già aveva fatto spaventare gli americani per dire vogliono che la Luna sia considerata territorio sovietico all'epoca c'era molta paranoia in queste missioni americani avevano appunto servizi di intelligence che dovevano fornire tutte le informazioni per spiegare che cosa avevano davvero in mente i sovietici e i sovietici erano all'epoca avevano appunto tecnologie molto limitate rispetto al programma spaziale sovietico però erano dei geni soprattutto il leader dell'epoca Nikita Khrushchev erano dei geni nel fare sembrare missioni apparentemente irrilevanti dal punto di vista scientifico come una clamorosa conquista del progresso dell'esplorazione spaziale furono talmente importanti questi gagliardetti che una copia di questi gagliardetti fu portata nel 59 dallo stesso Khrushchev in dono al presidente Eisenhower oggi se voi andate in un museo del Kansas che non ricordo bene quale sia trovate queste copie che erano state nel 59 portate in dono al presidente americano ora andiamo avanti abbiamo poi luna 3 luna 3 l'importante ha il fatto che è stata la sonda come vi dicevo prima ad aver fotografato il lato nascosto della luna come vedete dalle immagini qua si spiega a che livelli era la tecnologia dell'epoca è un'immagine che diciamo ciò chiaro fa schifo non si capiscono quali sono bene i crateri quali sono i dettagli della superficie lunare addirittura i sovietici quando produrranno il primo atlante lunare dal lato nascosto avevano commesso diversi errori per esempio avevano scambiato un fascio di luce come una catena montosa e li avevano chiamati appennini sovietici mi pare poi con lo sviluppo e l'esplorazione della luna si è scoperto che hanno detto chiaramente all'accademia delle scienze sovietiche avete scambiato un fascio di luce per una catena montosa e quindi fu questa questo aggiornamento fu ratificato nei principali atlanti dell'epoca e cos'altro come? si veniva captata da da un sistema di veniva inviata appena dopo fotografata veniva inviata sulla terra infatti c'è un clamoroso no questa è un'altra fase si veniva la tecnologia dell'epoca permetteva tramite una specie di scansione di ricevere l'immagine poi vediamo anche un fatto interessante di questo aspetto che porterà a rubare un'immagine appunto dal blocco occidentale di altro possiamo dire che bene o male il solvolo del lato nascosto porta a riprendere il 70% della superficie che mancava dalla luna successivamente le altre sonde completeranno appunto la fotografia però questo potete già capire che all'epoca presentato l'opinione pubblica era un traguardo eccezionale dire vi mostriamo cosa c'è dietro la luna quando per secoli nessuno sapeva cosa c'era davvero poi io qua ho messo anche nel libro un caso molto curioso anche qui di rapimento di un modello di luna 3 all'epoca l'unione sovietica mandava delle copie di queste sonde in alcune mostre internazionali nel caso di una mostra tenuta a città del messico è raccontato da alcuni documenti della CIA che un modello di questa sonda fu smontato e studiato dai servizi segreti americani senza che i sovietici se ne accorgessero durante la mostra tenuta a città del messico se cercate se siete bravi a cercare su internet trovate tra l'altro questo documento e io quando l'ho letto mi sono divertito parecchi perché appunto come ho detto all'inizio la corsa allo spazio è ricca di questi di questi aneddoti molto curiosi qui abbiamo poi luna 4 se conoscete i fratelli Giudica Cordiglia sono stati due fratelli torinesi radiomatori che all'epoca avevano captato i segnali dei primi satelliti e dei primi uomini in orbita luna 4 fu un caso abbastanza clamoroso abbastanza curioso anche questo perché aveva l'obiettivo di realizzare per la prima volta l'allunaggio morbido quindi sganciarsi sulla luna in modo senza impatto violento i fratelli Giudica Cordiglia avevano commesso un errore molto molto grave si può dire all'epoca avevano scambiato questa sonda come una sonda del modello precedente che doveva scattare le fotografie si erano impossessati delle fotografie presunte fotografie che la sonda aveva scattato alla luna pubblicandole sulla stampa se qualcuno di voi ha letto il libro di Boschini Cosmonauti perduti trova questa vicenda spiegata bene più nel dettaglio adesso non ci soffermiamo la cosa sicura che oggi possiamo dire è che luna 4 puntava a realizzare un allulaggio morbido non aveva fatto fotografie ora andiamo un po' più spediti se no non riusciamo a finire questa è luna 9 la sonda dell'immagine che appunto fu la prima a realizzare l'impatto morbido vedete la la capsula qua che si si posa sul suolo selenico l'importante c'è da dire che per diversi anni l'Unione Sovietica aveva tentato questa missione e numerosissime missioni erano fallite soltanto nel febbraio del 66 la missione viene compiuta perfettamente tra l'altro molti sbagliano e dicono che fu Karayev Sergei Karayev il leader del programma spaziale sovietico a realizzare questa missione in realtà a parte che il 3 febbraio era già morto perché è morto un mese prima la missione fu realizzata dall'ufficio di Babakin che era un altro ingegnere del programma spaziale sovietico il risultato però è straordinario per la prima volta i sovietici fanno atterrare in modo in modo morbido una sonda sulla luna e quindi cosa vuol dire atterrare in modo morbido sulla luna vuol dire avere la possibilità di fare una panoramica di fotografie o di immagini direttamente dal suolo lunare i sovietici addirittura diranno abbiamo donato alla luna la sua prima stazione permanente esagerando un po' nei termini poi abbiamo luna 10 luna 10 non c'è molto da dire dal punto di vista tecnico ma è il primo satellite lunare anche qua i sovietici dicono siamo stati i primi a donare alla luna il suo primo satellite artificiale questa è la mia preferita per un punto molto controverso molto divertente tra l'altro l'unione sovietica cercava ogni volta nuovi come dire aspetti originali da presentare da dare in pasto all'opinione pubblica e aveva detto abbiamo fatto di tutto abbiamo lanciato il primo satellite in orbita tutte le prime tappe fino a 66 della corsa allo spazio ho detto cosa possiamo fare per glorificare ancora di più la parte del socialismo lanciamo una sonda verso la luna che sarà il primo satellite e incorporiamo in questa sonda una sorta di strumento che deve ripetere le note della canzoncina dell'internazionale che all'epoca era lino di tutti i lavoratori e se andate su internet trovate tra l'altro questa la melodia che è stata registrata però ai sovietici incepparono in un piccolo errore si accorsero innanzitutto l'obiettivo di questa missione era fare ascoltare in diretta la canzoncina ai delegati del congresso del partito comunista dell'unione sovietica che proprio in quei giorni quando la sonda si avvicinava alla luna era riunito a Mosca la sera prima quindi quando i tecnici dovevano preparare gli strumenti per farlo ascoltare si accorsero che nella canzoncina mancava una nota e quindi voi potete pensare cosa significava all'epoca trasmettere nel congresso del partito comunista l'inno più importante del socialismo sbagliato cioè con una nota mancante e qui i sovietici compiono dal punto di vista propagandistico una da un lato io lo vedo come un successo straordinario negativo però perché hanno ingannato molte persone per farla breve i delegati di questo congresso ascoltarono una registrazione fatta dai tecnici che non era quella della sonda che al momento si aggirava attorno alla luna ma una una registrazione fatta sulla terra e i poveri delegati scoprirono dopo il crollo dell'unione sovietica quelli che erano ancora vedi che nel 66 furono ingannati poi abbiamo luna 15 luna 15 è la la sonda che ha rappresentato innanzitutto il punto di svolta della corsa alla luna da parte sovietica fino a quel momento i primati sovietici erano stati esclusivamente sovietici con luna 15 si capovolge la situazione tra l'altro luna 15 come leggete è la sonda che è entrata in competizione con Apollo 11 anche qua per non dilungarci troppo questa missione doveva recuperare per prima dei campioni di suolo sovietico di suolo selenico e riportarli sulla terra facendo sembrare la missione di Apollo 11 che è quella che ha portato Armstrong sulla luna è una missione meno meno importante la retorica all'epoca sovietica diceva noi abbiamo strumenti automatici che non mettono in rischio la vita dei nostri cosmonauti e l'unione sovietica voleva presentarsi come superiore la verità era che i sovietici all'epoca non sapevano ancora come svolgere lo sbarco sulla luna luna 15 però non svolge la sua missione come sperato si schianta clamorosamente sulla superficie lunare e non porta a caso il carotaggio che avrebbe non porta a casa il campione di suolo lunare che avrebbe dovuto estrarre dal suolo selenico tra l'altro la missione era all'epoca era stata captata anche dal programma spaziale americano che non capiva ancora all'epoca non si capiva mai cosa i sovietici stavano per fare erano tutte sorprese però captando i segnali di questa sonda si chiesero gli americani che cosa state facendo che i nostri uomini stanno per sbarcare sulla luna cioè si pensava che addirittura volessero camuffare disturbare le trasmissioni tra il modulo Apollo e il centro di comando a terra comunque la la situazione si svolge in favore per gli americani c'è chi addirittura l'ha definita come un caso di cooperazione tra sovietici e americani perché i sovietici rassicurarono gli intenti benevoli di questa sonda che per l'appunto non riuscì a compiere questo importante obiettivo sarà poi luna 16 a svolgere l'obiettivo che luna 15 non era riuscito a fare però guardate la data siamo nel 70 gli americani sulla luna sono già sbarcati quella è la conseguenza principale sull'opinione pubblica che luna 16 passa indifferente all'entusiasmo che invece c'era stato per le sonde precedenti però riesce comunque portare sulla terra con questa struttura i primi campioni di suolo lunare Mosca si giustificherà dicendo però noi abbiamo campioni di suolo lunare che abbiamo saputo recuperare con le nostre tecnologie senza mettere a rischio la vita dei cosmonauti abbiamo poi le ultime più rilevanti ecco se avete notato va beh qua c'è 16 15 tra 10 e 15 ci sono altre sonde che ovviamente non vi spiego adesso ma non hanno niente di entusiasmante o sono dei fallimenti o sono delle ripetizioni dei successi precedenti di nuovo delle ultime sonde di appunto qualcosa di nuovo c'è il 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 lunaco che sono i camminatori lunari che in due occasioni vengono portati sulla luna sono del degli strumenti più sofisticati ovviamente rispetto alle prime sonde e svolgono bene o male bene il loro il loro compito il questo appunto questo rover lunare viene portato sulla luna per un tot di mesi compie delle delle perlustrazioni dell'ambiente lunare scatta fotografie analizza il terreno e così via questo è stato il programma luna poi c'è stato il programma delle sonde 3MV che non è niente di entusiasmante sono state le sonde che l'Unione Sovietica aveva chiamato col termine sond che significa appunto sonda che tra l'altro non erano intenzionate a raggiungere la luna ma a raggiungere pianeti venere e marte il caso di sonde 3 è un caso particolare perché l'obiettivo era quello di raggiungere marte per una serie di problemi la sonda invece non riuscirà a raggiungere marte e i sovietici la usarono appunto per fare una ricognizione fotografica del lato nascosto della luna e quindi completare quello che luna 3 aveva fatto nel nel 59 quindi adesso arriviamo a quello che avevo accennato prima le sonde totali del programma luna sono 24 più la sonda che abbiamo visto un attimo fa però e tutte queste sonde se voi andate a consultare la Pravda quotidiano sovietico più importante le trovate sulle prime pagine le altre sonde non le trovate per esempio le sonde che hanno subito appunto i fallimenti perché come vi ho detto prima non era stato venuto opportuno dal governo rivelare i fallimenti dall'altra parte della cortina gli americani invece i propri fallimenti li annunciavano le sonde in realtà del programma luna se noi facciamo un semplice calcolo sono in realtà 50 perché i tentativi di lancio totali sono stati 50 quindi 50 meno 24 meno 1 fa queste altre due e che cosa sono queste altre due tipi di sonde 20 fallimenti che sono sonde lanciate in cui praticamente il razzo è esploso e la missione è fallita ci sono poi delle missioni intermedie queste 5 sonde chiamate cosmos che avevano l'obiettivo di raggiungere la luna il lancio era stato positivo ma la sonda non aveva raggiunto la luna era rimasta in orbita terrestre anche qua i sovietici non hanno detto che la sonda doveva raggiungere la luna hanno pensato molto astutamente chiamiamogli nome chiamiamole cosmos e diciamo l'unione sovietica ha lanciato un altro satellite in orbita terrestre raggiungendo importanti traguardi questo questo poi è emerso fuori con la caduta dell'unione sovietica tutte queste cose sono emerse qui abbiamo la tabella che vi accennavo prima se vedete in grassetto ci sono le sonde del programma luna vedete 1,2,3,4,5 fino alla fine poi c'è un'altra pagina le sonde queste qua intermedie sono appunto cosmos 111 per esempio è una sonda che doveva entrare in orbita lunare ma ha fallito però è rimasta in orbita terrestre quindi l'hanno chiamata cosmos gli altri fallimenti non hanno addirittura ricevuto un nome la NASA poi l'ha catalogata con L che sta per luna l'anno e una lettera dell'alfabeto che sta per il tentativo progressivo di quella sonda qui c'è l'altra pagina vedete poi le altre sonde fino alla 24 il programma poi nel 76 verrà chiuso perché questo programma insieme a tutti gli altri per tentare di mandare un cosmonauta sulla luna avevano risucchiato numerose energie all'unione sovietica specialmente per quanto riguarda i finanziamenti quindi fu chiuso per questo e per una serie di altri motivi luna 15 che sarebbe stata la successiva avrebbe dovuto mandare il luna code 3 il terzo luna sulla luna fu cancellata poi abbiamo le missioni sonde che sono poco rilevanti una cosa che potrei dire sulle missioni sonde è che se voi studiate il programma spaziale sovietico vi renderete conto che non è come studiare quello americano oltre a fare un po' più di fatica nel recuperare le fonti c'è una giungla di informazioni che si accavallano tra di loro non si capisce alcune sonde di quale missioni di quale programma fanno parte addirittura se voi prendete questa sonda qui sonde 3 che è quella che doveva andare su marte ma è finita sulla luna è stato anche questo termine intendo sonda il termine che poi i sovietici hanno usato passiamo a livelli di dovete allenare il cervello per capire queste tecniche di propaganda è il termine che i sovietici hanno usato per il programma circollunare delle missioni sonde quindi usare il nome a titolo di copertura di una sonda per confondere le idee agli avversari ecco io qua ho finito di cosa da dire ce ne sono ancora molti qua vedete la pagina del mio sito internet parallelo 17 era il parallelo che all'epoca divendeva in due il Vietnam il Vietnam e l'ho usato come nome del sito prevalentemente perché rende bene l'idea del bipolarismo della differente divisione tra i due blocchi se avete qualcosa da chiedermi potete aggiungere me su facebook o cercare la pagina o andare sul sito io adesso te lascerei lo spazio alle domande potete chiedermi se volete anche le parti che non ho trattato per problemi di tempo dei tentativi di sbarco sulla luna e grazie per aver resistito fino alla fine quindi se avete domande che fanno finta di aver finito così vi svegliate a posto scusa luna delle live c'era un rapporto cometa artificiale come? luna delle live uno deve pubblicare cometa artificiale come detti ah cometa artificiale questo mi ha sfuggito perché come dicevo c'è troppa carne al fuoco allora credo sia ecco luna 1 sì all'epoca sempre questione di propaganda l'unione sovietica aveva previsto per questo tipo di sonde che erano le più semplici in realtà l'ultimo stadio del razzo realizzare una cometa artificiale rilasciando del sodio nello spazio e è quello che in effetti fecero queste sonde più che la sonda l'ultimo stadio del razzo il sodio era stato rilasciato a 113 chilometri 113 mila chilometri e molti dicono che era stato fatto per dimostrare al mondo che davvero il razzo aveva superato la gravità terrestre l'Accademia delle Scienze Sovietiche dice che in realtà erano anche delle prove che giustamente i tecnici e gli scienziati volevano avere del successo del razzo che all'epoca importante da dire nei mesi precedenti il razzo aveva molti problemi non si era riuscito subito a lanciare la sonda oltre la gravità terrestre quindi con questa cometa artificiale i tecnici avevano la prova che il razzo aveva già lasciato la terra e in effetti molti osservatori astronomici all'epoca sapevano di questa cosa come era stato annunciato e avevano puntato appunto gli strumenti per cercare di vederlo effettivamente e così in effetti avvenne avvenne se non mi sbaglio con l'una 1 l'una 2 l'una 3 no si solo con le prime due i razzi allora no gli R7 la famiglia R7 quelli che i sovietici chiamavano lo Sien-Niork perché la Sien che vuol dire R7 in russo gli avevano dato questo questo soprannome il razzo all'epoca non era Sayus e Sayus per aspettare quel tipo di razzo lì bisogna aspettare le emissioni Sayus perché all'epoca il razzo che era sempre un R7 prendeva il nome della capsula che portava quindi abbiamo razzi Sayus Vastok Vashkod Molna e così via all'epoca il razzo la domanda è sull'1-2 o su quelle più avanzate? sulle prime sì il razzo è un R7 bene o male migliorato però non cambia molto dal razzo che ha portato in orbita lo Sputnik nei razzi successivi si aggiungerà uno stadio superiore per imprimere appunto la spinta che servirà per missioni più articolate però qua abbiamo ancora razzi semplici questa è un'osservazione importante il razzo Praton è un razzo che viene impiegato nelle ultime missioni del programma Luna per una serie di ragioni all'epoca non c'era solo Sergei Karabiov nel programma spaziale sovietico ma altri competitori altri ingegneri erano emersi e avevano presentato una loro versione di razzi il razzo Proton si era dimostrato un razzo molto fattibile addirittura più degli R7 in alcuni casi era stato il razzo progettato da Vladimir Celamiei che era un competitore di Karabiov e all'epoca fu impiegato per le missioni più avanzate per esempio del Luna e fu il razzo che fu impiegato per il programma circunlunare esatto per le missioni Zond che prevedevano questo razzo progettato da un ufficio di progettazione diverso da quello che progettava invece le sonde il cosmonauta che sarebbe dovuto sbarcare allora le fonti dicono Alexia Eleonov che era il candidato non solo a sbarcare sulla Luna ma a compiere il volo circunlunare però non realizzandosi ma appunto la missione di sbarco non fu lui cos'altro si potrebbe dire ecco di importante che le missioni di sbarco progettate all'epoca prevedevano lo sbarco di un solo cosmonauta e non due come nel caso degli americani qui possiamo spiegare questo aspetto come questione di semplificazione delle tecnologie sovietiche che all'epoca non erano a livello di quelle americane in particolare il cosmonauta che doveva sbarcare sulla Luna doveva compiere un'eva un'attività extraveicolare in orbita lunare entrando nell'LK che era l'equivalente dell'EM americano direttamente in orbita questo perché per un fatto principale che era quello che i sovietici non avevano tempo di progettare un tunnel interno tra la nave madre nell'EK e quindi per guadagnare tempo si optò per questa strategia che comunque non venne nemmeno messa in atto ecco bravissimo le ambiguità sono il problema principale di quando si studia una le questioni del programma spaziale sovietico io di fonti le fonti che ho utilizzato di più magari le conoscete già sono pubblicazioni anche in inglese che o ricercatori americani o ex ingegneri sovietici al programma spaziale hanno pubblicato dopo il crollo dell'Unione Sovietica per farvi degli esempi abbiamo Baris Chertok che ha scritto Rakieti Yudik che magari lo conoscete per il titolo inglese che è Rockets and People sono quattro volumi molto corposi in cui trovate sul programma spaziale sovietico quasi tutto altri nomi c'è uno studioso americano che è stato il primo a studiare questi aspetti Asif Siddiqi che ha pubblicato invece diversi libri quello da cui ho attinto di più oltre a numerosi articoli viene scritti una valanga è Challenge tu Apollo sfida al programma Apollo tra l'altro se l'ho cercato su internet la NASA l'ha messo a disposizione sono delle scansioni fatte un po' male però sono disponibili altre fonti qua bisogna stare attenti alle fonti che si usano perché se tu prendi per esempio il quotidiano dell'epoca è ovvio che ci trovi un mucchio di informazioni che devi prendere con le pinze per verificare perché ovviamente non puoi utilizzare pochissime fonti per un libro così devi allargare più possibile per verificare se le informazioni sono vere o false si fa quello che in genere fanno i ricercatori che utilizzano il quotidiano confronti incrociati tra i quotidiani quindi verifichi che non so un dato avvenimento è stato presentato in un certo modo dalla stampa sovietica prendi la stampa americana per vedere cosa diceva all'epoca se vuoi tagliare quei tempi vai sul sito della stampa quotidiana di Torino che è accessibile fino a data di fondazione e vedi cosa corrisponde e cosa no poi ovviamente per fare questo passaggio magari prima è meglio aver studiato altre fonti che spiegano quello che era il programma spaziale sovietico ecco poi bisogna stare attenti alle fonti italiane che molte sono abbastanza imprecise c'è chi dice per esempio che sulla luna no scusate sto facendo confusione con un altro elemento comunque i due libri che ho citato adesso sono i più gettonati per fare ricerca su questi argomenti per quanto riguarda il russo io ho studiato russo all'università con il mio collega qui che lo sa meglio di me però e mi è servito più che altro per gli articoli della Pravda gli articoli della Pravda li va nell'archivio gli studi traduce e vedi cosa corrisponde effettivamente cosa no poi il russo può servirti se giri tra i i siti in lingua russa oppure altri sono altre monografie interessanti come il libro di Mishin che era il successore di Karaliov che ha scritto un libro intitolato perché non siamo mai arrivati sulla luna altri libri che mi vengono in mente ora diversi giornalisti hanno pubblicato appunto in russo considerazioni sul programma spaziale sovietico sia all'epoca sia dopo il crollo dell'Unione Sovietica e poi se volete ci sono anche numerosi cioè per esempio il manifesto che vi ho fatto vedere prima sono anche quelle delle fonti dimostrano come all'epoca si presentavano le missioni e anche molto materiale audiovisivo propaganda all'epoca scornava video su video in cui dimostravano quelle che erano le missioni americane quindi a differenza di quanto si può pensare le fonti sul programma spaziale sovietico sono molte e ve lo dico molto chiaramente anche un un italiano un cittadino italiano comune anche non parlando in russo trova molte di queste fonti l'importante magari è sapere l'inglese se riuscite bene o male a tradurre dall'inglese buona parte di questi argomenti li trovate io per esempio ho fatto ho prima studiato le fonti in inglese e poi quelle in russo così è ovviamente più logico si va a verificare quelle che sono effettivamente le informazioni divulgate all'epoca da Mosca sto attento perché lui è un politologo può smentirmi di loro se facciamo finta di capirci facciamo anche tentare durante queste evoluzioni nella corsa dell'infanzio non conoscevo veramente tanto la relazione americana è una di americani come ragione a queste con le viste la russa e ovviamente quando poi l'americana poi va bene andremo un po' più ma mi sembrava che lui si fosse così tanto avanti a vedere adesso comunque poi gli americani arrivano poi sulla luna con Donato che conosciamo fregando bene o male da lui perché alla fine si ricorda la gente comune della storia della corsa spaziale è l'americano che partella sulla luna esatto poi al bagaglia quindi quali quali sono le cibili che diciamo durante questa volta si in realtà bisogna dire che quello che all'epoca il governo americano sapeva non lo sapeva l'opinione pubblica ti faccio un esempio il razzo N1 che è stato il razzo più grande costruito dell'unione sovietica progettato per sbarcare sulla luna l'opinione pubblica non sapeva della sua esistenza i servizi segreti americani invece sì perché avevano dei satelliti spie avevano fotografato la base di lancio però gli americani e il governo erano molto attenti a non divulgare queste informazioni non si lasciava intravedere quello che anche il governo americano stesso sapeva dai sovietici bisogna dire che bene o male a metà degli anni sessanta c'è un ribaltamento i successi sovietici vengono sorpassati dai successi americani come hai detto tu la missione più importante è lo sbarco sulla luna bisogna dire che è una cosa che va sfumando nel senso i sovietici incominciano a presentare sempre meno successi però lo sbarco sovietico sulla luna non era all'epoca una cosa che si aspettavano l'opinione pubblica americana non vedendo più missioni non ci si chiedeva neanche se i sovietici furono davvero in corsa per lo sbarco quando poi si verifica lo sbarco su americano è interessante ci sono diverse pubblicazioni che spiegano come i sovietici da parte loro non danno molta importanza cioè sui addirittura la fase del lancio della missione Apollo 11 non viene molto presa in considerazione dalla stampa sovietica quando poi avviene lo sbarco americano era bene o male quasi scontato che fossero gli americani diciamola così a sbarcare ho risposto tutto mi è sfuggito una po' ma hanno mai non hanno mai non hanno mai mai il punto parla dottor lei ci siamo più teorici del dubbio ancora adesso del palco sulla luna che è una cosa complotto ancora adesso c'è la la americana del 69 il governo sovietico non ha mai posto no tra l'altro questo è un metodo che si usa gli anticomplottisti cioè noi spero per spiegare perché lo sbarco sulla luna americana è realmente avvenuto appunto perché se non fosse avvenuto i sovietici l'avrebbero sicuramente rivelato sì sì io ero qui l'ho qui l'ho qui sì sì va bene io intanto magari rispondo alla domanda faccio sono multitasking mi faccio dimmi pure intanto grazie a te ciao 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 prese i tuoi studi sì è un libro che parte della critica che hai già sonato di super musica sì è un libro che io ho letto molto e sono suggestioni per te oppure c'è qualcosa sulla musica no io ho il libro di Boschini che hai letto da qualche intuito no sì io lo appoggio no la teoria dei cosmonauti appoggio il libro di Boschini nel senso che ormai è chiaro che non ci sono stati cosmonauti perduti gli unici cosmonauti morti come lui dice in orbita sono stati Komarov nel 67 e quelli della Sayus 11 negli anni 70 io tra l'altro ho una collaborazione con una testata giornalistica e ho avuto dopo mesi di insistenza affidato un argomento sulla ricerca spaziale che troverete tra l'altro sul sito ho trattato questo tema mettendo a confronto i pro i sostenitori della mission della teoria dei cosmonauti perduti e quelli che invece la confutano la carne o fuoco anche qui è tantissima dalla mia opinione non c'è stato nessun nessun lancio fallimentare che ha portato alla morte di un cosmonauta questo perché oggi abbiamo tutti gli strumenti per screditare questa teoria dal mio punto di vista va bene abbiamo grazie Daniele un giorno a presto grazie a tutti grazie 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 grazie